A bordo di questo colosso ogni strada sembra un'highway americana. È grande, enorme, stracomoda, fantastica da guidare. Andiamo a provare l'Eletra Glide con Harley Davidson Monza. Il rumore del V-Twin a 45 gradi Harley Davidson rimbomba per tutta la storia del motociclismo lungo una linea senza interruzioni che risale al 1909. Ciascuno migliore di quello precedente, iconico, resistente, con un suono inconfondibile, con un look ineguagliabile, irraggiungibile per la sensazione che offre il guidatore e su questa fantastica opera d'arte sono montati i motori più potenti che Harley Davidson abbia mai creato. I motori completamente nuovi Milwaukee 8 107 e Milwaukee 8 114. Il V-Twin Harley Davidson di ultima generazione che si unisce alla linea touring. Sulla versione 2017 Harley ha abbinato i motori Milwaukee 8 completamente rinnovati a sospensioni anteriori e posteriori con sistema double bending valve ad ammortizzatori emulsion facilmente regolabili. Sono più basse di un pollice per offrire un comfort superiore, un maggiore controllo e una maneggevolezza più sicura. I nuovi ammortizzatori posteriori assicurano un precarico superiore dal 15 al 30%. Si regolano ruotando una singola manopola e non sono richiesti attrezzi. I nuovi pistoni più grandi occupano un'area superiore per un'ammortizzazione superiore per tutta la corsa delle sospensioni. Questa nuova tecnologia con forcella migliora la guida, in particolare in caso di terreno molto sconnesso e reagisce in modo più veloce per mantenere le ruote ben stabili per una frenata e una maneggevolezza sicure. Le informazioni che vengono trasmesse sul nuovo display touchscreen da 6 pollice e mezzo completamente a colori sono le più grandi e chiare che si siano mai viste su una motocicletta. Grafiche moderne, colori personalizzabili ed una regolazione della luminosità dello schermo automatica e manuale. È progettato per inserirsi perfettamente nello stile della carenatura per portare la tecnologia su schermo ad un nuovo livello della funzionalità Harley Davidson. È sicuramente più di quanto ci si potesse attendere, ma quando ne avrete bisogno vi accorgerete di non poterne assolutamente più farne a meno. Non ci sono parole per descrivere una moto che hanno tentato di imitare in tutti i modi, in tutte le maniere, ma non è possibile imitare l'Electra. È lei la regina incontrastata, Guglielmo. Questo è il cruiser per eccellenza, costruito per viaggiare e fare tanti chilometri in due persone in piena comodità, sia per la moto sia per tutto l'accessorio che ha a bordo. Ha tutto un sistema di intrattenimento per la musica, ha un interfono dedicato per il passeggero e per il pilota. Il passeggero per esempio può stoppare la musica che gli arriva in cuffia e parlare con il pilota, può abbassare, gestire la musica separatamente, ha navigazione satellitare, entrate USB, qualsiasi cosa puoi fare. Touchscreen, riconoscimento vocale, sette lingue, c'è anche l'italiano. Io però sono deluso da questa cosa, mi stai parlando di tecnologia e io invece ho voglia che tu mi trasmetta l'emozione di una moto che comunque è fatta di ferro. Questa roba qui per me vale più di tutta la tecnologia che giustamente hai elencato perché è fondamentale far capire che a ridire c'è neanche tecnologia. Oggi il cliente vuole tutto il comfort che trova su una macchina e vuole avere sulla moto, vuole avere la libertà e il sapore della motocicletta, della libertà che dà la sensazione quando la guidi e che è quello che dici tu, che è il classico, però vuole avere la tranquillità di tutti gli aggeggi che ha sulle auto oggi. Questa ha tutto. Pesa più di 400 kg e li vale tutti. Però quando vai non li senti assolutamente. Fai 800 km tutti i dunfiati e non te ne accorgi. Fantastica. Ma non dimmi che fate provare anche questa da Lady Davidson Monza. Yes, sir. Davvero? Tutta la vita. Si viene, si prova e ci si innamora e cosa si fa? La si compra. Si deve comprarla. Assolutamente. Fantastica. Personalizzarla questa è difficile perché voglio dire... No, costa solo di più. Ma costa solo di più. È già fantastica. È già bella, ci sono i più belli che costano ancora di più e la puoi accessoriare. Va bene. Andate allora a nome nostro, da Guglielmo, tutta la sua struttura, a Lady Davidson Monza che vi aspettano. Sono veramente i numeri e unici in assoluto. Grazie, Guglielmo. Grazie a voi.